vogliamo con vogliamo continuare a difendere quello che c'è in questo modo perderemo senatore sant'angelo la delega vuole andare fuori dall'aula evidentemente no come dice lei se continua a parlare se ne va fuori dall'aula se vuole fare il capo espiatorio lo fa vedo che lo fa con piacere allora fate parlare o no è un'aula dove si può parlare